E' un po' è fatto, fatta la riflessione, quindi loro se ne sono accorti subito. Eh, ho visto. Ottimo, chi c'è sta il primo piano? Quella, l'ha vista la chiama? La signora... quella che aveva abitato lì. Non è la metà di qua? Ah, quella è la metà di qua? Questa, quell'altra, quella che ha... no, il secondo piano... C'è il primo... ...dò che c'è la mia, poco oltre al piano? No, come l'ho fatto... ...ma fatto il nostre video. Inversi, come. ...maar... 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 ...me...